dove? a home quindi andiamo a salvare se io clicco qui, se io clicco qui se io clicco qui, perfetto e magari quando ci andiamo sopra in questo A facciamo un over due punti, pointer cursor pointer perfetto, quindi adesso abbiamo la manina new, conduit ok qui abbiamo i nostri post ognuno con i suoi tag se andiamo ad espandere in realtà vorremmo dare anche la possibilità di far vedere i post sulla base del tag che vado a cliccare quindi se andiamo a vedere lo smoker andiamo a vedere nei get abbiamo che uno dei parametri che possiamo passare in query string è proprio il tag se andiamo a fare la prova senza niente andiamo a fare l'execute ci ritorna tutti quanti gli articoli andiamo a vedere se ne troviamo uno esatto vediamo ecco questo test andiamo a provare a mettere nel tag test quindi vogliamo tutti gli articoli che abbiano il tag test facciamo l'execute e il risultato dovrebbero essere tutti quegli articoli che hanno il tag test questo c'è là questo c'è là questo c'è là c'è là vabbè diciamo che dovrebbe funzionare forse test troppo ne saltano fuori troppo proviamo a metterci eos vediamo eh quindi eos facciamo l'execute vediamo forse ce ne abbiamo un po' di meno sì dovrebbe essere di meno però vedete filtra gli articoli sulla base del tag allora andiamo ad arricchire il nostro article service qui possiamo passargli questo parametro che sarebbe filter by text e tag scusate e punti string e dobbiamo trovare il modo di passarlo alla nostra get ovviamente ora qui abbiamo tanti modi per poterlo fare uno dei modi che potremmo farli è ad esempio fare punto di domanda andiamo a vedere come si chiamava il parametro e dov'è 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 eccolo qua tag uguale e poi metterci filter by tag quindi facciamo un più senza string interpolation anche perché non voglio far così andiamo a vedere e qui mi dà un errore perché perché si aspetta un parametro andiamo a sistemarlo quindi non qui e qui ci passiamo ad esempio un bel undefined andiamo a vedere no un undefined non gli piace un bel null non gli piace anche il null bella bella stringa vuota ora lui ha fatto la chiamata andiamo a vedere che cosa ha fatto ha fatto article punto di domanda tag uguale niente potremmo mettere anche gli altri parametri ma sarebbero tutti quanti così un altro modo per poter andare a fare la chiamata passando dei parametri in query string è il seguente andiamo a creare search params uguale a new http params un po' come quando abbiamo definito leaders funziona nella stessa identica maniera quindi posso fare search params uguale a search params punto append che cosa il tag che è quello che avevamo messo qua virgola ad esempio quello che viene passato da qui filter by tag ma ovviamente se è una stringa vuota o è null qui posso farci un bel if if filter by tag facciamo che questo accetta anche il parametro null quindi se se c'è e anzi possiamo fare direttamente quel punto di domanda punto length maggiore di zero sì perché è possibile ok if filter tag and filter by tag punto length maggiore di zero se c'è questo se c'è questo allora andiamo ad aggiungere i search params adesso lo dobbiamo passare qui quindi questo url togliamo via questo pezzo perché lo vogliamo andare ad aggiungere con i nostri search params come facciamo se vi ricordate qui ci sono le nostre options tra le varie cose che ci permette di fare c'è i params dei punti search params ora potremo usare una forma un po' più concisa quindi facciamo params 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 e questo lo possiamo eliminare andiamo a vedere se è vero ovviamente questa chiamata non ci mette nulla ma se nella nostra home page qui vi diciamo null continua a fare la get senza nessun parametro se qui ci metto ad esempio y vediamo se c'è qualcosa eccolo qui vedete ha messo y vediamo se c'è qualcosa si c'è c'è e quindi possiamo ad esempio metterci anche gli altri parametri volendo quindi ad esempio metterci il limite di quale autore soltanto i nostri favoriti limite via dicendo per fare la paginazione ad esempio il limite office per fare una paginazione diciamo che è lato back-end e qui fare la paginazione lato front-end in questo modo che posso fare la prima chiamata che facciamo nell'anginio in init qui ci passiamo un bel undefined anzi no la prima cosa che facciamo qui è passare a farci tornare tutti quanti gli articoli se andiamo a cliccare un tag qui sotto bisogna che lo spando ok così ce l'abbiamo qui in alto quindi quando andiamo a cliccare questi tag vogliamo che vengano filtrati gli articoli quindi qui creiamo la nostra funzione filter by tag qui ci passiamo il tag tag name void perché non ritornerà nulla dobbiamo fare questa di nuovo chiamata ma nella get article passiamo tag name andiamo ad agganciarla nella nostra home page nell'html se vi ricordate qui avevamo i tag eccolo qua un hrf con lo sharp questo lo eliminiamo facciamo un bel click e cosa dobbiamo mettere qui filter by tag che cosa dobbiamo passargli qui dentro il tag che è la variabile che definisce che serve poi anche per scrivere all'interno dei tag salviamo il tutto andiamo a vedere se funziona adesso abbiamo questi tag se io clicco sit vedo sit io clicco test vedo i test se clicco ipsum vedo ipsum clicco eos vedo eos ovviamente in questo momento mancherebbe la possibilità di togliere via il filtro e magari far vedere questo tag magari di un colore diverso per farlo vedere che è evidenziato ovviamente un'altra ottimizzazione che possiamo fare ad esempio qui proprio nei tag andiamo a fare un refresh e visto che Angular 17 ci dà i control flow nuovi ci dà anche il defer il defer che cosa fa non fa nient'altro che andare a renderizzare il contenuto cioè l'html la parte di dom soltanto in determinati tipi di situazioni ora in questo caso ve ne faccio vedere una ma solo così a titolo di esempio diciamo che questo deve fare un defer quando quando c'è il viewport on timer di 5 secondi on viewport trigger andiamo così andiamo a spostare questo tag qui dentro dobbiamo definire un placeholder quindi placeholder e qui ci mettiamo ad esempio un bel tag caricamento in corso oppure quello che avremmo voluto noi che succede che se l'elemento non è nella viewport il viewport sarebbe quello che l'utente vede praticamente ci mette il caricamento in corso e dopo 5 secondi fa vedere effettivamente l'html però il resto guardiamo vediamo se riusciamo a farvelo vedere vediamo se riesco a farvelo vedere questo post mi sta ammazzando se andiamo a vedere l'html renderizzato dovrebbe esserci questo il content page questo l'ng class questo è il contenuto forse mi sa che l'ha già caricato eh sì l'ha caricato avete visto che a certo punto ha riscattato vediamo se riusciamo a rifarlo di nuovo anzi vediamo un attimo il suo contenuto eh no l'h ha già caricato a parte che sono sul primo elemento vediamo se sugli altri riusciamo a farlo vedere vediamo eh forse questo siamo più fortunati no ne ha già rindirizzati tutti andiamo a vedere se faccio un refresh niente non riesco a farvelo vedere che sta all'interno del viewport su troppi elementi comunque facendo il defer praticamente fa una specie di lazy loading sull'intero sull'intera pagina per fare non ci non c'è più sull'interno di fermi un'interima per fare un'interna di ovviamente qui adesso bisognerebbe andare a implementare anche il resto della pagina come ad esempio potremmo andare ad aggacciare ad esempio il favorite per agganciare il favorite bisogna essere loggati per fare il favorite andiamo a vedere profiles, text, users mi sa che è proprio questa richiede su slag come parametro vedete nel path e settare il favorite ovviamente se io provo vediamo se riesco a vedere il favorite andiamo a beccarcelo dalla chiamata andiamo a vedere se riusciamo a beccarlo dalla chiamata prendiamo uno slag qualunque quindi andiamo a vedere qui andiamo a vedere lo slag ad esempio questo facciamo una prova andiamo qui mettiamo file try it out questo facciamo l'execute e vedete che mi dice un authorized perché ovviamente gli articoli favoriti devo essere logato ovviamente no quindi andiamo a provare a implementare anche questa chiamata quindi abbiamo capito bisogna metterci lo slag qui quindi andiamo nel nostro article service qui set favorite lo slug stringa due punti observable andiamo a vedere che cosa ci dà di ritorno questa chiamata e di ritorno ci dà questo article response diciamo vabbè ce la facciamo dare article anzi non vogliamo l'imbustamento vogliamo soltanto article response quindi article response quindi qui possiamo possiamo fare come prima return 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 this.http client .get e qui abbiamo article response anzi no prima è l'envelop quindi article response envelope qui l'url è questo ovviamente anzi lo facciamo subito nel string interpolation perché perché nel path qui dobbiamo aggiungerci lo slug ovviamente questa get ci dà l'article response envelope quindi facciamo un bel pipe e trasformiamo questa facendoci dare soltanto cosa ci serve di article in realtà noi poi non ce ne faremo nulla però per coerenza magari questo potrebbe essere utilizzata anche da qualche altra parte e quindi diciamo così è la nostra home page diciamo che il cuoricino lo facciamo vedere soltanto nel caso in cui siamo loggati se vi ricordate era nell'app post preview quindi qui nel post preview avevamo il title, descrizione, read more avevamo eccolo qui article favorite count possiamo anche lasciarlo così al click diciamo on set favorite però dobbiamo passargli se vi ricordate lo slug quindi article punto slug andiamo a definire questa funzione eccola qui e adesso abbiamo questa funzione questo è lo slug e qui che facciamo private article service uguale a inject article service quindi this punto article service punto set favorite this è lo slug punto subscribe e già che ci siamo iniettiamo anche il toast service uguale a inject il toast service e quindi quando abbiamo la nostra bella subscribe e ci abbiamo next che significa che è andato tutto quanto a posto che facciamo vis punto host service punto success set in your favori andiamo a vedere salviamo il tutto noi siamo già loggati e andiamo a abbiamo no qui c'è qualcosa che non va no è andato tutto quanto a posto in realtà non vedo il toast il che già prima non me l'aveva fatto andiamo comunque a fare un refresh in realtà non sembra aver funzionato andiamo a fare l'ispezione andiamo a provare a settare di nuovo probabilmente avrò sicuramente dimenticato qualche cosa da un 405 metodo non permesso ottimo andiamo a vedere bene che cosa abbiamo fatto metodo not allo web simpatico perché mi dice metodo not allo web e adesso bisognerebbe andare a vedere perché se sono non autorizzato mi da questo però io sono autorizzato e ti passo pure la request dovrei andare a vedere vediamo subito il post il post da un metodo not allo web perché type proprio instance extension interessante metodo not allo web chissà perché andiamo a vedere un attimo che cosa fa request ah perché siamo in get invece il favorite è un post post è un post con un po' di vuoto quindi settando la favorite qui diciamo andai fine anzi facciamo proprio null andiamo a riprovare andiamo a risettare e adesso è andato bene set your favorite andiamo a rifresciare mi ha dato un 200 però non mi sembra che l'abbia settato proviamo adesso è andato in errore no set your favorite andiamo a fare un refresh però probabilmente qualcosa io sto facendo un refresh però non mi fa vedere il cuoricino chissà perché non mi fa il count andiamo a vedere magari a ispezionare che cosa ritorna facciamo di nuovo un reload article response dovrebbe essere il primo favorite count ancora manco il favorite mi dice dovremmo risettarlo però una volta che io ho setto questo mi ritorna favorite true e favorite count uno com'è che poi poi se vado a fare una reload negli article non me lo dice probabilmente resumo io ci sarà qualche errore dato back end succede ragazzi succede e dovrei andare adesso a vedere la parte di back end per capire se ci sono errori dato back end però guardandolo così vedendo qui lui fa la select sembrerebbe tutto quanto giusto vogliamo fare magari qualche invio proviamo a fare la insert ma a me non sembra che faccia un update una insert sul favorite quindi mi sa fa soltanto select quindi presumo che il back end non sia proprio completo vediamo se salva se mi fa vedere la insert quindi se qui adesso inserisco un altro post ok andiamo a fare la post che mi ha detto ah c'è ancora il il post sbagliato quindi andiamo a sistemarlo eccolo qui andiamo a risalvare facciamo un po' di spazi nella console andiamo a vedere e andiamo a vedere di ricreare un nuovo post create post si le insert le fa vedere quindi non so per quale motivo non vada fa anche l'insert dei vari tag quindi evidentemente o non è completo il back end o non era previsto cioè l'avevano prevista come funzionalità però poi magari non serviva a tutti gli effetti altre cose qui potremmo far vedere o non far vedere your feed quando non si è logato è che se tu sei slogato your feed non ha senso di essere fatto vedere quindi 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 eccolo qua anche qui if dovremmo averlo no qui avevamo articoli andiamo a vedere nell'home page cosa ci avevamo article service era privato quindi non possiamo andare a vedere quello non ci avevo lo user service andiamo andiamo qui ce lo andiamo a iniettare anzi lo iniettiamo qua user service uguale a inject user service una volta che abbiamo lo user service andiamo qui if user service punto token andiamo a far vedere il pezzo di your favorite quando non siamo loggati abbiamo soltanto global feed quando mi loggo andiamo da mu1 andiamo a vedere adesso c'ho anche your feed ovviamente non fa niente perché non l'abbiamo implementato però almeno così vediamo quando siamo logati o non siamo logati poi bisognerebbe filtrare per il nome dell'utente che abbiamo visto nello sblogger esserci se andiamo a vedere la nostra get eccola qui c'era anche per autore quindi se noi volessimo vedere soltanto quelli di un determinato autore basta metterci in query string l'autor no quindi cliccando qui automaticamente il tre ci farebbe vedere soltanto gli articoli diciamo di questo a quest'autore volete che lo facciamo vi va che dite una cosa che non vi ho detto che solitamente io faccio proprio ho performamentis anche se vai ok anche se vi faccio vedere questa cosa se nella chiamata diciamo anche del service no metto anche il complete quindi qui facciamo il console punto log complete in questo modo beh qui magari vabbè facciamola così ok se adesso noi andiamo cliccare questa bellissima flying in fly in out ah perché il new panne animation questo è il toast ecco perché ogni tanto non funziona please make post preview browser animation module ok browser non l'avevo importato nell'app config with browser era with browser aspetta un po' get secure and provide animation non provide provide animation niente non lo sente l'intellisense lo andiamo a importare questo gli serviva e ce la siamo dimenticati prima quindi adesso functioned implemented perché no ma no perché diciamo che da questo punto di vista vizio studio code dovrebbe un po' migliorare ok provide animation adesso se io provo a fare set ok adesso non abbiamo più quel brutto orrore che vedevamo prima mi ero dimenticato di fare il provide animations e quindi questa animazione che fa vedere il toaster ok che stavamo facendo vedere allora ecco questa cosa qui ora quando io faccio la chiamata e questo funziona per tutte le chiamate http a meno che non siano dei web socket degli stream e via dicendo come potete notare vengono si concludono quindi passano per il complete quindi l'observable viene chiuso solitamente però un po' performamentis un po' perché se cambia questa questa funzione no e magari invece di fare l'htp client diventa uno stream o qualunque altra cosa io solitamente comunque sia per non sapere né leggere né scrivere anche perché supponendo che magari questa chiamata sia lunga perché magari è una chiamata molto lenta ci impiega molto tempo è una chiamata magari deve chiamare tanti dati o deve fare delle operazioni insomma massive insomma ci impiega un po' di tempo nel caso in cui l'utente esca facciamo finita magari siamo nel new post facciamo l'insert poi ci ripensa torna dall'home io comunque sia faccio un take until destroyed in maniera tale che chiuda lo stream se il back endista ha fatto le cose fatte bene anche lui interromperà nel momento in cui noi interrompiamo la richiesta anche lui interromperà l'esecuzione lato back end di quella richiesta stessa della richiesta stessa quindi qui facciamo private destroy ref ormai avevo fatto già vedere anche questo destroy ref uguale a inject destroy ref take until destroyed di vis.destroy ref e questo lo andiamo ovviamente non lo trova quindi import from rom angular core barra x j interop e qui ci facciamo importare il take until destroyed esatto ok quindi per non sapere leggere e scrivere comunque sia il take until destroyed lo metto solitamente in tutte le chiamate quindi qui e poi questo è il post preview perché avevamo messo l'article service qua ah per fare il set salary favorito ok poi nel home la stessa identica cosa quindi dopo get article pipe ovviamente non lo trova quindi bisogna importarlo bisogna creare il destroy ref eccolo qui e vabbè poi vi vorrebbe andarlo a fare un po' per tutti click fix update eccolo qui ok quindi questo sarebbe da fare no dopodiché abbiamo read more ok non c'è una get diciamo del read more no quindi non abbiamo la possibilità di fare però perché perché nella get article ci ritornava direttamente tutti quanti i post quindi andiamo qui e il get post sarebbe una nuova pagina ovviamente in questo caso bisognerebbe passare un parametro al navigation quindi quel meccanismo o così per fare questo se volete lo facciamo non è proprio molto elegante perché a quel punto dovremmo trovare un meccanismo per settare un articolo no quindi magari article in view uguale a signal di article dto pipe undefined e qui magari ci mettiamo undefined quindi article selected facciamo così article selected article selected quindi diciamo che quando andiamo sul post creiamo una nuova pagina post vedete quante cose bisogna fare per fare ad esempio una navigazione di pagina ovviamente questo ve lo sconsiglio vivamente di farlo andremo a vedere poi con routing come si fa correttamente e finiremo diciamo la parte base di angular poi appronteremo ngrx ok quindi nell'app andiamo qui con il case andiamo a fare il post quindi app post quindi qui nel post preview dovremmo nel readmore non più mandarlo al post html andiamo subito a sistemarlo allora andiamo qua questo è il post preview e nel post preview abbiamo il nostro post preview qui dovrebbe esserci anche il readmore ora noi nel post preview dobbiamo iniettare a questo punto private navigation service uguale a inject inject navigation service niente ho fatto quello che voleva qui navigation service questo quindi cosa dobbiamo fare quando facciamo readmore dobbiamo fare su tutto quanto il link quindi togliamo via l'href facciamo il click on show post andiamo qui creiamo il nostro metodo ok lo spostiamo magari lo mettiamo qui quindi qui facciamo vis.navigation service article selected set che quale articolo è quello che avevamo in input quindi vis.article ovviamente non gli piace article is not assignable article punto che cosa gli ho detto qui article dto in realtà non voglio article dto ma voglio proprio article di article mi ricordo che differenza c'era tra i due article ah article dto sono gli articoli l'articolo è l'articolo stesso ok questo possiamo anche cancellarlo perfetto quindi article selected è article purtroppo devo fare questo meccanismo ma la prossima volta che andremo a vedere i routing lo semplifichiamo di molto però intanto ci divertiamo nel crearlo quindi article servite e poi dobbiamo fare vis.navigation service punto page to view set al post quindi salviamo torniamo indietro adesso se clicco questo ovviamente ovviamente non ho salvato ok rifacciamo se clicco questo chi ha fatto che cosa ha combinato ok ci ha portato nel post visto però ovviamente non è ancora bindato niente quindi andiamo nel nostro post preview anzi non nel vostro post preview ma nel nostro post qui a questo punto ci serve il navigation service voilà inject perché il navigation service c'ha il post da poterlo visualizzare qui quindi quello che abbiamo selezionato da prima ok e che facciamo niente andiamo a bindare nel post nel post che cosa leader ok l'htmlista peraltro sono sempre io quindi ho fatto io questa cosa la pider viene replicato in ogni pagina non è proprio la cosa più giusta da fare però l'htmlista ha fatto questo quindi qui facciamo belif come abbiamo visto l'altra volta se article selected questo è un signal quindi aperta tonda punta tonda punti virgola as article article ok chiudiamo così eliminiamo questo errore lo mettiamo qua così almeno leader il footer lo vediamo quindi adesso abbiamo la variabile article quindi clicchiamo un articolo eh sì ho cliccato il profilo clicchiamo un articolo eccolo qui how to build web app è il titolo quindi facciamo in data binding article intellisense non vuole funzionare granché title il profilo al momento lo lasciamo in questo stato andiamo a stringere qui bisognerebbe metterci l'url se vi ricordate bisogna metterci le quadre per mettere l'SRC dell'immagine qui è article punto author punto image qui è il nome dell'utente quindi vogliamo via article punto author e vabbè author punto username qui è la data possiamo andarcela a prendere dal post preview come l'abbiamo formatata qui eccola qui andiamo a mettere qua ovviamente qui ci dobbiamo mettere article senza le prentesi tonde qui dobbiamo importare sul post se vi ricordate vi avevo fatto vedere o importiamo il common module ma importeremo tutto oppure possiamo importare il date pipe il date pipe hanno trasformato le varie pipe già fornite da angular in stand alone components ok in questo caso stand alone pipe ok quindi abbiamo messo la data andiamo a vedere intanto se si vede già qualcosa vediamo questo clicchiamo qui ok how to build ah non l'ho salvato andiamo a vedere quindi to quantify vedete l'immagine non c'è qui potremmo mettere un punto di domanda dove è sul source in maniera tale da far vedere un'immagine di default ok andiamo avanti poi follow arick simpson no simpson follow quindi segui che cosa dell'article author niente l'intelligence non vuole funzionare username questo è il counter quindi author following no questo è se io lo sto seguendo quindi favorite count ok questo favorite count questo che cosa sarà boh favorite post in teoria dovrebbe essere il favorite dell'autor però non mi sembra forse bisognerà fare un'altra chiamata che secondo me questo questo va messo qui questo è quanti sono quanti hanno selezionato come loro preferito questo post questo secondo me dovrebbe essere quanti seguono l'autor quindi l'autore però sull'autor non vedo autor punto non vedo c'è stato il following che significa se io lo sto seguendo quindi al momento io farei questa cosa al momento andrei a commentare questo pezzo vi faccio vedere un altro trick molto carino se io commento e mi serve da ricordare che devo andare a controllare questo pezzo di codice ti faccio così due punti barra due punti due punti da controllare anzi mi sembra senza due punti dopodiché c'è un plugin qui to do list se non ricordo male andiamo a vedere to do 3 eccolo qua installiamolo adesso installiamo questo plugin a questo punto lui crea questo to do e guardate ci dice esattamente dov'è il to do molto utile questo plugin ve lo consiglio funziona anche all'interno dei typescript quindi all'interno delle classi funziona anche in altri linguaggi sempre sotto visual studio code comunque questa sintasi del to do o ad esempio che cos'è che fa il to do poi ce ne sono anche altri posso filtrare vedete posso fare dello flat posso filtrare no c'era anche il filtro gruppo by tag ok se non ricordo male c'è anche readme vediamo un po' no read no io uso il to do andiamo a vedere sicuramente nel to do fixme eccolo qua fixme poi che cos'è che c'ha c'ha il fixme c'ha il fixme e poi però potresti ce ne sono anche altri di andare a vedere sotto vabbè dopo si può settare i vari colori dicendo comunque molto utile questo questo plugin ok quindi questo io metterei da controllare andiamo avanti ok se io clicco questo c'è il body questo qui è il body ok quindi tutta questa parte che in questo momento è moccata quindi fino a qua vediamo se ho fatto la cancellazione giusta è article punto body se io clicco avrei il mio article guardate che succede questo non ve l'ho mai detto gli escape li metti in questa maniera ma se io faccio inner html è uguale article body e faccio così andiamo a cliccare continuano a vedersi qual è la differenza però tra inner html e questo allora in sostanza l'inner html stiamo facendo il binding direttamente sull'html quindi potremmo anche essere esposti a degli errori a dei problemi di sicurezza in realtà facendo l'inner html se non ricordo male dovrebbe fare sanitize della variabile che tu gli passi quindi dovrebbe essere sempre dovrebbe sempre andar bene ovviamente lo slash n non viene interpretato come un ritorno a capo ma se io faccio vediamo se ce l'ho un post magari fatto bene vediamo questo no sono tutti quanti fatti un po' così eh si vediamo 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 titolo con interceptor vediamo body con interceptor ok niente qui potrei ad esempio fare un replace vediamo vediamo soltanto così per test a parte che mi dà già un errore perché ovviamente non posso farlo in line in questo modo no però dovrei fare un replace delle slash n in maniera tale da farlo andare a capo quindi di metterci un tag br quindi abbiamo creato anche questo e volevamo fare anche il filtro per l'utente in realtà questo non è il filtro per l'utente che se clicco va a profile vediamo se abbiamo la pagina di profile si ce l'abbiamo quindi dovremmo usare più o meno lo stesso stratagemma che abbiamo usato prima quindi nel navigation service quindi user selected anzi author selected uguale a signal di author pipe undefined e quindi undefined vediamo se c'è l'autor dovrebbe esserci si c'è c'è ok quindi a questo punto ci aggiungiamo anche il profile profile ok quindi quando andiamo a cliccare qui dobbiamo andare sul profile quindi andiamo sempre sul nostro post preview eccolo qui qui quando facciamo click dovremmo chiamare un on profile on view on show profile show profile profile ok andiamo a dichiararlo questo metodo andiamo a vedere questo lo spostiamo giù e facciamo più o meno la stessa cosa facciamo con il post quindi profile navigation service punto author selected uguale vis punto article punto author eccolo qui page view profile torniamo indietro quindi andiamo a metterlo qui e lo mettiamo anche qui siete d'accordo se adesso io clicco ovviamente nell'app component dobbiamo riaggiungere anche questo quindi allora il post l'abbiamo fatto e dobbiamo metterci profile eccolo qui e ci mettiamo questo bel tag adesso clicco mi ha portato all'autore ovviamente devo fare il binding anche qui purtroppo tocca farlo in questo modo ma vedremo prossima volta facendo il routing come farlo meglio navigation service uguale inject navigation service quindi qui abbiamo ovviamente il nostro profile html qui facciamo più o meno quello che abbiamo fatto anche dall'altra parte if navigation service punto auto selected auto selected era una variabile se non ricordo male anche questa abbiamo fatto un assignal perfetto quindi aperta tonda punte virgola author qui ci mettiamo la parentesi graffe as author quindi andiamo giù andiamo a mettere la parentesi graffe e andiamo a fare il binding il binding qui vabbè qui è l'image quindi con la quadra qui facciamo author punto image author author punto author ah niente no ragazzi non ce la posso fare non ce la posso fare punto username questo qui è il bio quindi questo possiamo cancellarlo io dopodiché qui è sempre con lo username questo abbiamo capito che dobbiamo commentarlo eccolo qua lo andiamo a commentare e qui ci mettiamo un to do da completare dopodiché andiamo qui questi era my post favorite post perché c'era un esatto my post my favorite post quindi andiamo ma proprio andiamo a farlo ovviamente questi sarebbero i post my favorite post e i my post di dell'utente che stiamo andando a vedere no andiamo a salvare se io clicco web76 in realtà l'immagine non c'è qui dovrei vedere quello che segue web76 va bene ragazzi è inutile che andiamo se siete d'accordo avete capito come funziona e come come può andare avanti vi do un'ultima chicca per quanto riguarda i servizi soprattutto ad esempio quando facendo una chiamata in get purtroppo qui nell'esempio che vi sto proponendo non c'è questa situazione supponiamo ad esempio che in un determinato articolo non c'è non c'è non c'è